I gradi, pronti, 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 anche i gradi, allora basta che guardi dentro, aspetta, non vedi la guarda, vedi, perché dove sei? Allora, comunica, protone a 4.5, nord, 3.6 est, fuoco di interdizione, fuoco di interdizione, fuoco di interdizione, fuoco di interdizione. Fuoco di interdizione, fuoco di interdizione. Quando vedo la sua signora in fondo, è arrivato il colpo, è arrivato il colpo, è arrivato il colpo. 350.0 nord, 350.0 nord, 145.0 sud, fuoco di sbaramento con la sostanza, fuoco di sbaramento con la sostanza. Vai, fuoco! Fuoco! Fuori il tiro di 2 gradi! Buongiorno! Buongiorno la volata! bomba la volata, alzo zero via tutti, alzo zero via tutti, chi c'è c'è, chiusa la manovra, mi ha imparato Napoleone.